L'area dei Colli Albani, per la notevole concentrazione di testimonianze geologiche, naturalistiche, archeologiche, storiche, culturali, religiose e culturali, può essere, secondo me, essendo da esperto e lo frequento in ogni angolo, può a pieno titolo essere annoverato tra i luoghi più interessanti e culturalmente belli al mondo. Questo perché non tutti i reperti geologici, archeologici e storici del territorio del vulcano laziale, area Colli Albani, sono stati raccolti, conservati e valorizzati nei musei. Cioè, non tutto ciò che l'uomo ha prodotto nell'area, nel territorio del vulcano laziale è stato portato nei musei, ma una notevole parte è ancora nascosta nei boschi, nella natura e lungo i sentieri. Nella nostra presentazione vedremo questa cosa. Una notevole parte di cose create dall'uomo in questo territorio è ancora nascosta nei boschi, nella natura e lungo i sentieri. Ecco perché portiamo le persone non nei musei, ma nei sentieri, nei boschi, dove ancora i manufatti umani a livello culturale sono nascosti. Una notevole quantità di siti di interesse geologico, archeologico e storico è ancora nascosta nei boschi e lungo i sentieri, tanto da poter identificare e creare degli itinerari per visitarli. Ora, questa nostra conferenza riguarda la geologia, l'orografia, cioè come attualmente è stato modificato nel corso dei millenni il territorio dalle eruzioni vulcaniche che abbiamo avuto. Allora, userò terminologie molto semplici, chiare a tutti e molto elementari per poter capire di ciò che stiamo parlando. Cos'è la geologia? La geologia è la scienza che studia la costituzione, la struttura e l'evoluzione della crosta terrestre. Tale geologia può essere suddivisa in geologia generale o geodinamica, geologia strutturale o tettonica, geologia stratigrafica o stratigrafia. L'orografia, invece, è la parte della geografia che descrive le caratteristiche dei rilievi montuosi, nonché la relativa rappresentazione cartografica. Capite benissimo che l'orografia sta quindi alla base della cartografia e di conseguenza della sentieristica. Conoscere come è fatto a livello orografico un territorio aiuta a orientarsi meglio mentre lo percorriamo. Infine, cos'è la vulcanologia? La vulcanologia è la specializzazione della geologia che studia i processi, i fenomeni vulcanici, i loro prodotti soliti e gassosi. E nel corso di questa conferenza vedremo quali sono, quali sono stati gli eventi eruttivi collegati e la pericolosità di un rischio vulcanico. Bene, cominciamo la nostra passeggiata dopo aver chiarito un po' questi elementi geologia, orografia e vulcanologia. Iniziamo con semplici elementi di vulcanologia del Lazio dei Colli Albani, per capire meglio questo territorio, che ripeto, è culturalmente tra i più ricchi al mondo. Ecco, questa cartina che vedete, ecco cominciamo la nostra passeggiata, sono i vari vulcani distribuiti in tutto il territorio nazionale, tutto il territorio italiano. Vedete benissimo, perché salta all'occhio, che la maggior parte dei vulcani sono tutti nell'area tirrenica. Vedete? Sono tutti disposti verso questa parte qui. Difatti si può parlare di vulcanologia tirrenica. In altri luoghi dell'Italia, verso l'Adriatico, vedete non ce ne sono? E questo per un motivo molto semplice che, in modo altrettanto semplice, vedremo a breve. Per spiegare il perché i vulcani italiani sono distribuiti in tutta la parte tirrenica, una delle spiegazioni, se non la maggior spiegazione, viene da uno studio circa la suddivisione della crosta terrestre in placche. Vedete? Vedete qui questa cartina, troviamo la placca australiana a sinistra, la placca pacifica, la placca di Nazga, la placca nordamericana. E con lo studio di queste placche si è capito come mai la maggior parte dei vulcani italiani sta tutta nell'area tirrenica. Questo perché? Perché quando le varie placche entrano in contatto e magari una si sottopone all'altra, scusate vado indietro, si sottopone all'altra, si crea una zona chiamata di subduzione. In questo punto si crea una frattura dalla quale fuoriesce la sottostante lava verso l'esterno. Quindi tutta la placca africana spingendo verso l'Italia si è sottoposta a creare una zona di subduzione, una frattura dalla quale fuoriesce il magma vulcanico. Ecco perché questa è una spiegazione, una teoria di come la maggior parte dei vulcani e perché la maggior parte dei vulcani italiani sta tutto nell'area tirrenica. Vedete? Ecco, qui tutta la placca africana ha spinto verso l'area qui italiana, si è creata un'area di subduzione, si sono create varie fratture nel sottosuolo, qui nell'area tirrenica e da qui in queste fratture è iniziata a uscire la lava, creando e disponendo i vulcani italiani tutti nell'area tirrenica. È un modo molto semplice, una teoria che secondo me è la più accreditata a spiegare questo fenomeno. Andiamo avanti. Ecco, quando parliamo di vulcano laziale parliamo, ci dobbiamo riferire a una vasta area che la possiamo dividere in due parti, l'area sabatina a nord di Roma e l'area del vulcano laziale. Chiedo scusa, il relatore, sono Alberto, volevo dirti che si vede un angolino, non è centralizzato, non occupa tutto lo schermo l'immagine che tu commenti, capito? Quindi probabilmente dovrà essere condivisa l'immagine a tutto campo. Io vedo solo un angolino, probabilmente non l'hai messa, non l'hai centralizzata, non so se sono riuscito a... No, Alberto, non dipende, noi la vediamo bene, tutta la... Ah, perfetto, perfetto. Se tu la vedete a tutto campo... Perfetto, perfetto. No, ma tu la vedete a tutto campo, allora... Perfetto, scusatemi, 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 ma... Bene, è risolto questo problema che... Risolto questo problema che credo sia locale al signor Alberto, continuiamo la nostra passeggiata sul vulcano laziale. Allora, stavo dicendo appunto che il vulcano laziale, quando parliamo di questo argomento, dobbiamo suddividere il Lazio in due parti, l'area sopra Roma e l'area intorno Roma. L'area sopra Roma ha... Troviamo il gruppo vulcano sabatino, vulcano laziale sabatino, suddiviso nell'area dei Monti Sabini, Cimini e Bulzini. L'altro gruppo vulcanico intorno Roma e a sud di Roma è il gruppo del vulcano laziale, area Colli Albani. Qui già mettiamo un po' d'ordine quando parliamo di vulcano laziale. Il vulcano laziale a nord di Roma, area sabatina, vulcano laziale intorno Roma, area Colli Albani. Ecco, questa che vedete è una cartina del 1800, una delle prime cartine geologiche realizzate e spiega, fa vedere proprio che a sinistra, a nord di Roma, questa è disposta sul piano verticale, a nord di Roma abbiamo i vulcani sabatini, mentre a sud di Roma abbiamo l'area dei vulcani laziali. Ecco, già in mente dobbiamo avere questi due gruppi, vulcani sabatini e vulcano laziale area Colli Albani. Ecco, vedete, qui è tutta l'area a nord di Roma, area sabatina con i vari vulcani, e quella a sud di Roma. Vedremo poi come i vulcani dei Colli Albani si sono sviluppati nelle loro fasi geologiche evolutive. Ecco, vedete qui, sia a sinistra che a destra, come si sono comportate le lave precisamente nella terza fase, nella terza fase vulcanica, l'area dei, quando si sono creati i laghi. Una parte di lava discendeva dalla parte sommitale del vulcano e scendeva verso Roma, come è avvenuto anche per delle lingue di lava che scendevano verso sud, verso Velletri. Addirittura una lingua di lava che scendeva fin verso dove oggi è Cecilia Metella, verso Lappia, ha dato luogo alla creazione e alla costruzione dell'Appia Antica, perché da Cecilia Metella in quell'area i romani hanno sfruttato proprio questa lingua di lava per crearci sopra e iniziare la via Appia. Ecco, vedete, questa è tutta l'area del vulcano Laziale, primo recinto, secondo recinto, area laghi, e le lingue di lava che scendevano verso Roma. Quindi il vulcano Laziale non ha avuto un effetto solamente nel luogo circostante il vulcano, ma si è diramato verso Roma, gli effetti verso Roma, e addirittura a sud verso Velletri, fin verso Anzio. Ecco, questa qui è la più antica carta geologica laziale, dove appunto nell'area dei Colli Albani si vede proprio il vulcano Laziale, con le lingue di lava che scendono verso Roma ed altre più piccole nell'area di Velletri. Questa è una cartina molto bella, è del 1874, realizzata dal professor Giuseppe Ponzi, i vulcani del Lazio, area Colli Albani. Ecco, andiamo adesso a vedere l'orografia attuale del vulcano Laziale. Saliamo su un satellite, vediamo com'è l'area dei Colli Albani. Eccola qua. Questa che vedete è una fotografia satellitare dove già possiamo individuare delle aree qui sui Colli Albani. Questo è proprio il vulcano Laziale, vista da notevole altezza. c'è un primo recinto vulcanico esterno, un secondo recinto centrale e tutta quest'area qui con questi vulcanelli più piccoli che poi saranno i prossimi, laghi di Albano, Nemi, Valericia, attualmente prosciugato, il lago Turno, attualmente prosciugato. Vedremo poi le fasi. Ecco, questa è la foto che ha Lamberto dietro le sue spalle. È una bellissima foto satellitare realizzata con il satellite Copernicus. Questa è la più bella foto del vulcano Laziale, molto chiara. Qui appunto, primo recinto, secondo recinto, poi vedremo le date, lago di Albano, lago di Nemi, lago di Valericia, ripeto, prosciugato per creare pianure fertili, lago Turno, che attualmente oggi ospita e assede un campo da golf. E tanti altri vulcanelli poi si sono formati qui intorno. Poi vedremo la cartina appropriata. Questa è una immagine con la disposizione delle città sull'area dei Colli Albani. Eccola qua. Primo recinto, il più antico. Troviamo disposte su questo antico recinto Frascati, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Rocca Priora, Lariano, Velletri. Nella parte centrale del vulcano c'è disposta Rocca di Papa. Nell'area d'Aghi c'è appunto disposto Castel Gandolfo, Albano, Aricia, Nemi e Genzano. Ecco, vedete com'è posizionato il vulcano Lassale, l'area con gli Albani, verso il mare. Qui abbiamo l'area d'Aghi, giù Pomezia, Ardea e l'area costiera. Ecco, vedete? Anche questo visto da grandi altezze, il primo recinto, il secondo, l'area Laghi e qui il mare Tirreno. Andiamo a vedere adesso la geologia vele propria del vulcano Lassale. Ripeto, in questo caso, area Colli Albani. Eccola qua. Questa cartina che ogni escursionista che frequenta l'area e il territorio del vulcano Lassale dovrebbe avere bene in mente perché aiuta una volta che conosciamo come è fatto, come è costituito a livello orografico l'area del vulcano Lassale, come dicevo prima, ci riusciamo a orientare meglio. Bene, vi guido. Questo che vedete grande qui è l'area del primo recinto vulcanico chiamato, che corrisponde alla prima fase, chiamata fase Artemisio-Tuscolana. È il primo recinto, quello più antico, che è datato, stando ai geologi dell'Istituto Nazionale Geovulcanologia Italiano, si può datare tra 600.000 e 300.000 anni fa, quindi il primo recinto, che ha raggiunto anche grandi altezze, si ipotizza altezze montuose qui del primo recinto anche di oltre i mille metri. Talmente tanta lava è emesso che crollò su se stesso il vulcano, creando nella parte centrale un'altra fuoriuscita di lava, dando vita alla seconda fase detta di Monte Faete o Campi d'Annibale, datata 300.000 200.000 anni fa. A un certo punto, qui, il vulcano raffredda, si crea come un tappo, una chiusura, la lava sottostante, incontrando le le vene freatiche sottostanti, dà luogo alla terza fase, detta idromagmatica. Questa datata, tra 200.000 e 25.000 anni fa, anche se alcuni studi recenti hanno abbassato questo 25.000 portandolo intorno al 15.000 10.000 anni fa. Ecco, questa è l'idea che noi dobbiamo avere per capire il vulcano laziale. Primo recinto, Artemisio Duscolano, che immaginatelo chiuso nella prima fase. Immaginatelo chiuso nella prima fase. Si è creata poi la seconda fase. Nella terza fase, con grosse esplosioni di vapore, è stata una fase molto distruttiva, ha fatto crollare il lato qui sinistro del primo recinto, ha modificato il territorio, tanto da poter parlare, qualche geologo ipotizza anche che questo sia stato, si tratti di un super vulcano, poiché è stato un talmente, una tale emissione di lava e tali esplosioni che ha modificato proprio il territorio. Ora, in base a questo, a queste tre fasi, abbiamo il territorio attuale del vulcano Laziale, dove risiedono le città. Per orientarci, qui abbiamo Frascati, Monte Compatri, tutta l'area del Tuscolo, questa è l'area Artemisio, dove troviamo le città di Vellese e Lariano, qui Rocca di Papa, Lago d'Albano, Lago di Nemi, Lago di Valericcia, Lago Turno, con le città di Albano, Nemi, Marino, Grotta Ferrata e così via. Ecco, questa ve la lascio un secondo in più perché è l'immagine che dovete avere del vulcano Laziale. Ecco, questa qui è una proporzione che hanno realizzato i tecnici dell'IGV Nazionale, Istituto di Geovulcanologia e hanno messo in, hanno paragonato la quantità di lava emessa dal, dal vulcano. Guardate quanto è grande questo cubo di lava, questo è tanto per rendere l'idea, è stato tutto la lava emessa dal vulcano Laziale, prima fase, Recinto, Artemisio, Tuscolano, vedete? Litosoma sta per vulcano, Tuscolano, Artemisio, guardate, questa nella seconda fase, molto minore, e questa nell'area laghi, che sono state più che altro esplosioni di vapore e formazioni di grosse cavità crateriche che hanno dato poi luogo ai laghi dei Colli Albani. Quindi la prima fase è stata una, quella che ha avuto la maggior emissione di lava. La prima fase, ripeto, Artemisio, Tuscolano, 600.000, 300.000 anni fa, Monte Faete, 300.000, 200.000, terza fase, idromagmatica, i laghi, 200.000, 25.000 anni fa. Ecco, stavo dicendo che nella terza fase idromagmatica sono stati i laghi principali dei Colli Albani, il lago d'Albano, il lago di Ariccia, il lago Turno, qui, ma anche un'altra serie di piccoli laghetti nell'area di, l'area Prenestina, Casilina. Difatti troviamo il laghetto di Prataporci, il laghetto di Valle Marciana, Pantano Secco, il lago di Vivaro che è il famoso Pantano della Tocanella. Vedete, oltre a quelli principali altri laghetti minori. Questo tutto nella terza fase e nel corso dell'evoluzione geologico-evolutiva del vulcano Laziale. Questa è una pianta della campagna romana del 1835. Addirittura qui c'è anche per noi di Velletri il lago di Giulianello che, anche se non fa parte dei Colli Albani, rientra nella fenomenologia vulcanica dei Colli Albani, vulcano Laziale e aree Colli Albani. Questo pure è un steam call nato da un'unica esplosione del vulcano. Ecco, questa, vedete, Frascati, Monte Compa, la disposizione di alcune città sul vulcano Laziale attuale. Bene, vediamo quali sono oggi come oggi volendo passeggiare sul vulcano Laziale quali sono le antiche testimonianze di questo vulcano a livello geologico. Vedete, questa qui, ecco, cominciamo adesso con delle fotografie che magari sono anche più dinamiche. Questa qui è la colata lavica vulcano Laziale che sta sul Monte Artemisio. Io su questa colata ci vado spesso, ci ritorno domani mattina per fare delle verifiche. Questa è la colata che sta su Belletri. Una delle due. Ci sono due colate laviche grandi. Una è questa. Ecco, altre foto della colata lavica. Questa è una colata lavica che ha dato luogo a tutta una formazione di basalto. il basalto insieme alla pietra sperone, al tufo, al peperino sono tutte pietre, tutti componenti che l'uomo poi ha, di tipo vulcanico, che l'uomo poi ha utilizzato per le costruzioni di edifici, di chiese e di strutture varie. Un esempio, la facciata della chiesa San Pietro di Frascati è tutta fatta in pietra sperone. Il pietra sperone è una lava del vulcano razziale utilizzata nelle nostre architetture. Ecco, qui ancora la colata lavica di Velletri, tutti blocchi enormi di basalto, da qui un panorama meraviglioso che si perde all'infinito anche oltre il tirreno nei giorni dove non c'è Foschia. Bene, questa è ancora la colata lavica di Velletri, qui siamo affrascati un'altra cava di basalto, questa è un'altra colata lavica che passiamo appunto sono le testimonianze che ci arrivano dal passato ma che oggi possiamo vedere percorrendo i sentieri del vulcano laziale. Qui abbiamo una delle colate laviche che vi dicevo prima, dal vulcano laziale colate lingue di lava verso Roma, questa è la colata lavica di Fioranello, un altro blocco di basalto, Fioranello in prossimità dell'aeroporto di Ciampino sull'Appia Antica, vedete, qui addirittura degli intrepidi si avventurano poiché qui l'hanno realizzata e la sfruttano come palestra roccia. Questa è una cava, una bollata lavica di basalto, vedete, la scalano pure ci si divertono. Bene, a questo punto sorge una domanda, ma questo vulcano laziale è attivo o è spento. Allora, andiamo a vedere quando è che un vulcano laziale si dice attivo. Ci sono tre elementi che ci fanno capire che un vulcano laziale è attivo. Uno è certamente l'eruzione vulcanica vera e propria, eruzioni vulcaniche esterne di lava. Conseguentemente, successivamente, abbiamo altre fenomenologie di tipo secondario e sono l'esistenza e la creazione di solfatare ed emissioni di gas, anidride carbonica, eccetera, nonché terremoti e sciami sismici. Ecco, questi tre elementi sono essenziali perché un vulcano venga considerato attivo. Il vulcano laziale attualmente è un vulcano attivo ma in uno stato quiescente. Cosa vuol dire quiescente? Vuol dire che non c'è l'eruzione vulcanica esterna vera e propria, è assente l'eruzione vulcanica, ma i fenomeni secondari esistono, ci sono ancora, sono quantificabili e li viviamo continuamente noi dei colli albani. E mi riferisco a fenomeni di creazione di solfatare ed emissioni di gas di nitride carbonica, basta andare alla solfatare a Dipomezia o giù ad Anzio, in prossimità di Anzio, dove troviamo delle solfatare. Noi qui ai colli albani spesso assistiamo a fenomenologia sismica, i famosi sciami sismici, l'ultimo c'è stato adesso ad agosto-settembre. in più i tecnici dell'IGV nazionale hanno notato un innalzamento del livello, dell'altezza dei colli albani, precisamente in prossimità dell'area di Rocca di Papa, hanno notato un innalzamento delle creste, questo dovuto a un accumulo sottostante nella camera magmatica dove si conserva la lava che si sta accumulando e che spinge verso fuori portando l'innalzamento della cresta dell'area di Rocca di Papa. Quindi il vulcano laziale attualmente è attivo e quiescente, cioè mancano sì le eruzioni vulcaniche esterne, ma l'accumulo di lava, la creazione di solfatare e gli sciami sismici li viviamo tutti i giorni. Andiamo a vedere altre testimonianze appunto del vulcano laziale, quelle attuali, emissioni di gas, emissioni gassose, solfatare, gas endogeni dal terreno come idrogeno solforato e anidride carbonica. Dove le troviamo queste cose? Dove le possiamo vedere? Dove è tangibile oggi il vulcano laziale? Ecco qua. Questa qui è una delle che stanno intorno a Roma. Questa è la solfatare di Pomezia. Esiste poi la solfatare di Torcaldara ma in questo caso siamo vicino Roma. Questa è l'area della solfatare di Pomezia con i bellissimi laghetti. Ecco, questo è il lago verde. Sono cinque laghi e ognuno è stato identificato in base alle colorazioni. Questo è il lago verde nel quale l'acqua rispecchiando dalla vegetazione esterna ha preso questo colore questi riflessi verdi. Questo signore qua che vedete sono io e mi trovo precisamente alla solfatare di Pomezia al lago bianco. Il lago bianco è un grande distesa di acqua dove dal sottosuolo quest'acqua ribolle con l'emissione di anidride carbonica e gas endogeni dal terreno quale l'idrogeno solforato il quale mantenendosi ad un livello basso non fa granché effetto ma quando comincia a superare gli effetti a superare un certo livello crea effetti molto irritanti e che possono portare fino alla morte. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che spesso animali che transitano in questo luogo dove il vulcano ancora si fa sentire tramite questo solfatare può dar luogo alla morte. Noi troviamo spesso animali morti quali gatti istrici cinghiali è avvenuto qualche anno fa nell'area della Cava di Selci dove l'emissione di gas dal terreno ha ucciso diversi capi di bestiame. Ecco questo sono io giù alla solfatare di Bomezia in un periodo nel quale l'emissione di gas di idrogeno solforato dal terreno permetteva la visita. Vi consiglio di non andarci in piena estate perché può essere pericoloso. Io ci sono stato un mese fa e ho resistito in questo lago bianco una quarantina di minuti poi sono andato via perché iniziavano già le irritazioni alla gola. Ecco vedete a sinistra in questa foto vediamo la fuoriuscita di anidride carbonica e qui un gatto morto dovuto all'emissione di idrogeno solforato. Terremoti e sciami sismici i terremoti e sciami sismici insieme alle solfatare sono fenomeni di secondari del vulcano laziale che ripeto è attivo ma qui è scente è qui è scente proprio perché sono presenti solo questi fenomeni secondari. Questa è una sezione della Terra dove fa capire un po' la maggior pericolosità di vivere vicino a un vulcano o addirittura qui da noi i Colli Albani proprio sopra il vulcano queste che vedete qua sono le faglie se ti devo parlare di faglie ora non so ad approfondire troppo ma ecco dalle faglie si possono dall'urto di queste faglie si possono generare terremoti in più la pericolosità ai Colli Albani di sciami sismici e terremoti aumenta perché oltre alle faglie abbiamo anche nella camera magmatica sottostante la lava che sicuramente crea delle agitazioni e di conseguenza anche degli sciami sismici delle scosse telluriche delle scosse sismiche che per fortuna restano sempre un po' limitate ecco quindi il territorio del vulcano laziale area di Colli Albani proprio di Colli Albani stesse è un'area molto soggetta ai terremoti un po' per il vulcano laziale la magma sottostante e anche per le faglie che come il resto d'Italia sono causa di terremoto vedete questa è una frattura del terreno dove fuoriesce la lava questa è la camera magmatica dove si addensa la lava nel sottostante suolo dei Colli Albani gli sciami cismici poi possono durare anche una un certo numero di anni una certa quantità di tempo qui abbiamo delle guardate questa parte a sinistra qui abbiamo l'anno e la durata nel 1773 queste sono state sono le la tavola delle sequenze sismiche storiche di maggiore durata qui ai Colli Albani nel 1773 per circa un periodo da febbraio a ottobre c'è stato questo sciame sismico durato diversi mesi nel 1800 la durata di uno sciame sismico è stata di un anno e mezzo con epicentro nella qualità di Velletri nel 1829 abbiamo avuto uno sciame sismico durato nell'area Albano da maggio a dicembre nel 1876 sei mesi nell'area del territorio di Palestrina nel 1892 territorio di Ranuvio ben due anni capite benissimo che per due anni qui si è ballato e l'uomo ha verificato l'esistenza viva del nostro vulcano naziale i tecnici dell'IGV hanno poi constatato che i sciami sismici si verificano più o meno ripeto più o meno ogni ciclo di trenta anni quindi ogni trenta anni dagli studi fatti dall'IGV si verificano sciami sismici anche abbastanza rilevanti e significativi andiamo avanti ecco qui poi c'è la scala Mercalli che ci dà il valore di questi dell'intensità di questi sciami sismici questa è la scala Mercalli dove troviamo i vari gradi della sismicità non mi soffermo vado oltre ecco l'ultimo sciami sismico a Colli Albani quando c'è stato? dal 28 al 29 agosto 2020 l'area di Colli Albani è stata interessata da debole sismicità ben 15 eventi di magnitudo tra 1 e 2 e 3 questo è lo sciami sismico più recente ecco questa è la quindi l'insieme delle 15 scosse avvenite dagli abitanti dei Colli Albani vedete sismicità tra 1 e 3 e 3 quindi non stiamo in un livello di elevata pericolosità ecco qui alcuni alcuni articoli questo parla del maggior terremoto avvenuto nei Colli Albani con Epicentro Annemi precisamente il 26 agosto del 1806 dove la mattina del 26 agosto alle 7 e 35 ci fu la prima scossa di un movimento sismico di 5.8 della scala Richter che ha causato sia a Roma sia sui Colli Albani alcuni danni a edifici e chiese questo terremoto è stato avvertito ben fino a Napoli ripeto il più intenso terremoto nei Colli Albani c'è stato il 26 agosto del 1806 con Epicentro Annemi ma qualcuno dirà ma allora se la lava sottostante innalza i Colli Albani la cresta dei Colli Albani c'è pericolo? non c'è pericolo state tranquilli state sereni perché i tecnici dell'IGV hanno parlato sì di una prossima eruzione vulcanica ma è prevista tra circa 10.000 anni non so dirvi se di mattina o di pomeriggio però ci ne sarà un'altra bene non certo adesso ripeto è stato calcolato un tempo di 10.000 anni quindi prendiamocela tutti quanti comoda e stiamo sereni ecco qui abbiamo uno studio fatto dall'IGV proprio sull'innalzamento dei Colli Albani dunque nel periodo dal 1951 al 1994 l'area la cresta dei Colli Albani ha deformato il suolo sollevandolo di 30 cm dal 1951 al 1994 sollevamento che ancora continua per l'accumulo sottostante nella cabra magnetica di lava questa che vedete è la cartina sismica del gennaio del 2020 la cartina italiana del pericolo sismico andiamo a vedere nel Lazio area Colli Albani eccolo qua eccolo qua stiamo in una pericolosità medio alta vedete giallo con striscia arancioni giallo con striscia arancioni livello 2A medio alta bene termini lasciamo adesso la geologia l'orografia la vulcanologia del vulcano laziale perché credo che sia chiaro come si è sviluppata con le sue tre fasi l'area dei Colli Albani e com'è stata causata l'attuale disposizione dei Colli Albani domanda l'uomo quando ha iniziato a frequentare l'area dei Colli Albani certamente non nel periodo di maggior sviluppo del vulcano stesso perché con eruzioni di tale intensità l'uomo se ne guardava bene dal frequentare era un luogo inabitabile inospitale invivibile però mano mano che il vulcano si raffreddava cominciava l'ambiente ad avere un habitat più vivibile più frequentabile e ecco che gruppi di cacciatori dal sud della pianura della pontina salgono verso i Colli Albani quando il territorio comincia a essere avere delle caratteristiche di vivibilità ma quando è avvenuto questo man mano che il vulcano perdeva la sua forza le lave si raffreddavano e l'aria l'aria cominciava a essere respirabile non c'erano più le ceneri i gas e tutte queste cose qua si sono delineate tre aree principali quello direttamente sulla sul vulcano laziale vedete primo recinto secondo recinto e area laiche un'area collinare e zone umide e un'area costiera quindi mano mano si è cominciato a delineare l'abita di vivibilità nell'area vulcano laziale e intorno ecco man mano che cominciava a rendersi vivibile l'ambiente del vulcano laziale certamente ci sono voluti millenni certamente ci sono voluti millenni e ci orientiamo verso la terza fase magmatica duecentomila venticinquemila anni fa è quella che ha dato luogo alla popolazione dei colli albani al popolamento dei colli albani i primi gruppi di cacciatori dalla sud area pontina cominciano a salire verso l'area del vulcano laziale ma questo quando allora nel paleolitico medio centoventimila trentaseimila anni fa sporadici spostamenti di gruppi umani neandertal finalizzati alla caccia e alla raccolta man mano che l'area l'ambiente diventava abitabile cominciavano a nascere delle prime praterie le praterie richiamano gli animali i cacciatori neandertal seguono gli animali e si portano sempre più verso l'area dei colli albani i primi ritrovamenti litici risalenti a centoventimila e trentaseimila anni fa si sono trovati ad altezze tra gli ottanti e i duecento metri e si trattava di trovamenti in superficie quindi che fanno capire alla frequentazione sporadica ma non alla stanzialità di questi gruppi di cacciatori di oggetti di pietra in tre aree principali l'area di Velletri Cisterna Velletri Via di Cori Malatesta quartieri di Velletri zone di Velletri che è di Velletri le conosce benissimo e l'area di Santa Palomba ripeto questi primi ritrovamenti risalenti a gruppi paleolitici di centoventimila trentaseimila anni fa tra gli ottanta e i cento metri eccoli disposti questa è l'area di Velletri e l'area di Santa Palomba andiamo avanti il tempo passa l'ambiente diventa sempre più vivibile e ci troviamo siamo saliti a trentacinque mili tra i trentacinque mila e diecimila anni fa molto probabilmente molto probabilmente eh l'uomo intorno ai al queste epoche si è sicuramente imbattuto in qualche ehm eruzione minore e finale del vulcano si parla anche quindi in questo periodo di eruzioni recenti del vulcano meteoria diminuzione della frequentazione umana sulla costa e mano umana aumenta la frequentazione nelle aree interne continua la raccolta e la caccia da parte di questi gruppi migliorano le tecniche di caccia difatti strumenti litici che si sono trovati nonché strumenti da lancio quali l'arco sono stati ritrovati tra i cinquecento e i seicento metri quindi ecco che l'uomo si comincia a portare alle altezze verso l'area dei Colli Albani i ritrovamenti sono avvenuti nell'area dei Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa continua i ritrovamenti a Cisterna e a Roma d'Orbergata questo era trentacinque mila e diecimila anni fa la parte diciamo finale dell'evoluzione geologica del vulcano Laziale ecco le aree questa addirittura vedete l'area della costa qui addirittura sono arrivati il punto quindici questa è il Vivaro qui siamo a Rocca di Papa i gruppi di cacciatori preistorici sono saliti già sui Colli Albani tra i trentacinque mila e diecimila anni fa quindi il vulcano naziale comincia a raffreddarsi a rendere l'ambiente si comincia a rendere vivibile e gli uomini cominciano a frequentare l'area dei Colli Albani vabbè poi c'è la fase del Neolitico dove si cominciano ad avere i primi villaggi perché l'uomo si comincia a stanziare in queste aree nella fase antica del Neolitico datato tra 8.000 e 3.000 anni fa nella fase antica ripeto tra gli 8.000 e 6.500 insediamenti di piccole dimensioni 3-4 famiglie per avere poi tra i 5.000 e i 3.000 anni fa i primi villaggi che aumentano di numero e di dimensioni dove sono i siti Neolitici dell'area Albana quelli a noi più recenti nell'area di Ciampino nell'area Colle Mattia Pantano Griffi Vigna Schibboni Paluzzi qui a Genzano qui è tutta l'area di Marino Velletri Monte dei Ferrari molto importante dove è stato ritrovato una castelliera addirittura dell'età del bronzo qui sul Monte dei Ferrari e sui Colle Albani a Velletri precisamente già nell'età del bronzo e qui sono stati fatti molti ritrovamenti di lavorazione dei metalli quali il bronzo qui c'è un sull'Artemisio proprio un villaggio del bronzo Velletri Vigna Pecorari quindi gli ultimi ritrovamenti bene eccoli distribuiti e qui l'uomo è arrivato proprio nell'area raffreddata del vulcano Naziano l'area vivibile i primi gruppi insediati ai Colle Albani ecco io qui terminerei terminerei questa primo nostro incontro quindi abbiamo parlato appunto della geologia dell'evoluzione del vulcano Laziale degli effetti primari e secondari del vulcano Laziale e di come l'uomo ha antropizzato l'area di questo di questa particolare parte del Lazio abbiamo messo parecchie cose nel nostro bagaglio culturale credo oggi non vorrei insistere di più per non annoiarvi perché già questo è stato una bella passeggiatina nel prossimo incontro vedremo come questi uomini che sono arrivati dall'area costiera verso i Colle Albani hanno iniziato a produrre manufatti templi tombe e cose varie quindi tutta la parte archeologica la vedremo la prossima volta e vedremo anche la prossima volta come in tutto questo grande territorio del vulcano Laziale si sono poi create le strade i sentieri per raggiungere postazioni villaggi riserve d'acqua come ancora oggi è possibile muoversi nel vulcano Laziale precisamente lungo questi sentieri e andare a vedere con le passeggiate che si possono fare a pieno contatto con la natura quali sono sono le testimonianze lasciate dall'uomo nel corso dei secoli io per oggi terminerei qui quando la direzione dell'unitredi di Velletri e ringrazio ancora Lamberto Cioci ringrazio ancora Bianca Maria Berardi mi diranno Carlo vai con la seconda parte io sono ben disposto e felice di accompagnarvi per mano in questa nostra passeggiata lungo i sentieri del vulcano Laziale rivolgo a voi tantissimi auguri di buone feste sperando che il prossimo anno sia più sereno e ci consenta di muoverci tutti meglio e tutti in buona salute grazie tanto buona sera Carlo senti una cosa interrompi la condivisione dello schermo e sentiamo se ci sono osservazioni eccola siamo tutti in linea adesso allora se ci sono domande fate o considerazioni fatele aprendo il microfono prego va bene io a prescindere che dà l'ok già come un tre di più per poter assistere agli ulteriori incontri immancabilmente anche perché questo territorio illustrato oggi da noi non è assolutamente conosciuto quindi sarebbe opportuno fare anche di itinerari in presenza quando consiglio logicamente per approfondire proprio con l'animo a partecipare a queste cose perché così è interessante veramente complimenti sinceramente troppo di nostra felice mi dispiace che sia finito troppo presto sai Isabella che sei la prima che è finito troppo presto ci sei rimasto un poco male veramente ok grazie posso dire io vorrei tanto ringraziare per me è stato miele per le mie orecchie lo conosco molto bene io tutto questo discorso e lo amo appassionatamente ne ho scritto ne ho parlato all'unitrea anche io e quindi sentirlo ancora è stato veramente meraviglioso e poi soprattutto questa esperienza diretta di andare sui sentieri e beh questa sarà una cosa meravigliosa e sono molto interessata a sentire quelli che sarà che sono stati gli ultimi ritrovamenti perché è veramente un discorso di un fascino eccezionale grazie veramente grazie grazie a te Renata perché oltre che essere la nipote di Pirandella hai fatto delle lezioni splendide di oceanografia dove sei stata professoressa universitaria ma ci hai spiegato che c'è un vulcano il più grande del tirreno il più grande italiano sommerso non mi ricordo il nome ma tu me lo puoi dire Luigi Ferdinando Marsili Renata Marsili ma io nel passato all'Unitrea ho parlato parecchio anche del del nostro territorio del vulcano laziale però è bellissimo averlo sentito da un altro come dire un altro punto di vista è stato veramente piacevolissimo grazie 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 Renata altra osservazione vediamo domani per avere complimenti di Renata Carlo vuol dire che sei andata proprio sei andato bene perché Renata è una grande allora se non ci sono osservazioni io chiudo la registrazione e questa registrazione l'ho fatta poi la mando a tutti quanti gli associati e tutti quanti e la mando anche cortesemente su Unitre Lazio in maniera tale che le persone di tutte le Unitre possono guardarla visto che si parla c'è Sermoneta ci sono tutti zone molto prego Carlo ecco io volevo volevo ringraziare la signora che mi ha fatto tutti questi bei complimenti ma credo che quando c'è passione in uno studio si denota si denota e diventi trascinante poi sono argomenti questi che veramente sono affascinanti perché non li senti mai da nessuna parte dagli stessi geologi non ne senti mai questi studiano 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 ma ne li senti mai mando sano solo all'IGV è vero vero bravissimo lo stesso fanno gli archeologi lo stesso fanno gli archeologi studiano studiano restano studi negli archivi e e alle persone di tutti i giorni non arriva mai niente questo è un scusate ma è uno sfogo personale sei il nostro sei il nostro filo angelo della vulcanologia ebbè no me ne guardo ce ne vuole tanto ce ne vuole tanto no concludo con una con una cosa la signora ha detto una cosa importante noi ecco annuncio proprio questo che noi dal 10 gennaio per ben 5 passeggiate didattiche iniziamo col gruppo sentitoristica vulcano naziale una cosa mai realizzata in Italia e in questo territorio il primo corso di geologia orografia del vulcano naziale noi in 5 passeggiate portiamo le persone a verificare a toccare con mano e a guardare con gli occhi come il vulcano naziale si è manifestato e tutt'oggi ancora si manifesta scusa Carlo ma come fate col covid allora noi eh facciamo passeggiate normalmente ma nel pieno rispetto delle eh delle norme anti covid innanzitutto non stiamo al chiuso siamo all'aperto innanzitutto usiamo igiene e mascherine distanziati di due metri in questo modo abbiamo camminato e cammineremo ancora nel pieno rispetto delle norme anti covid non scambiamo cibo non ci abbracciamo non diamo luogo a contatti ripeto siamo all'aperto e a distanza di due tre metri si può camminare perché uno credo di sì tempo permettendo tempo permettendo beh logicamente tempo permettendo io volevo ecco fare un attimo parlare un attimo dare ehm queste cinque passeggiate andiamo proprio sul posto dove il vulcano naziale ripeto si è manifestato e si manifesta la prima sono le colate laviche del monte Artemisio il dieci gennaio ventiquattro gennaio la solfatare di Pomezia andiamo a toccare con mano a vedere queste eh questa anidride carbonica che fuoriesce dal terreno e dal luogo a queste solfatare il sette febbraio i coni di scorie di Monte Salomone e Monte Duscolo il ventuno febbraio i coni di scorie di Rocca di Papa e infine andiamo a vedere i laghi andremo dal lago di Nemi al lago di Albano percorrendo i sentieri e i luoghi dove questo vulcano naziale si è manifestato vedremo i fanghi vulcanici vedremo i lear vedremo tante belle cosette che non capita tutti i giorni di vedere questo è un corso ideato da me seguito da me e che inizia dal 10 gennaio Anna eh volevo infatti chiedere alla Carlo scusi eh ma come fare per contattarvi e allora il dietro di me vedete c'è gruppo sentieristica vulcano naziale noi abbiamo anche tramite facebook certo noi abbiamo proprio un contatto facebook dove sopra abbiamo messo tutta l'organigramma l'organizzazione del corso eh dove c'è scritto tutto quanto e il numero di telefono è suo o di qualcun altro se mi chiamo sopra lì sull'account del gruppo sentieristica vulcano naziale in facebook c'è il gruppo c'è tutta la spiegazione e il mio numero di telefono la mia mail e tutto quanto quindi per chi è interessato dal 10 gennaio andremo a veivere proprio il vulcano perché immagino che non farete grossi gruppi magari vi dividete no? vista la situazione vediamo vediamo quanti sono gli interessati vediamo quanti sono gli interessati certo che sono comunque dobbiamo fare più uscite più edizioni l'ultima slide se ti ricordi Anna sull'ultima slide ci sono i riferimenti siccome le slide fanno parte della lezione che registriamo a quel punto lui sapete tutto no no infatti infatti però ho pensato se il numero è suo vado su il numero è mio ma già da appena adesso finita la conferenza qui il nostro incontro potete contattare il gruppo sentieristica vulcano naziale in facebook iscrivervi perché l'iscrizione è gratuita e seguire in tempo reale tutto ciò che facciamo nel territorio del vulcano naziale e poi scopriremo con piacere che nella solfatara il covid more quella è curativa è curativa a me non posso no vabbè ma uno sta all'aperto uno sta all'aperto se fa una bella respirata o muori tu o muore il covid allora vi saluto con questa battuta grazie veramente di tutti grazie Isabella in particolare grazie a tutti ciao grazie arrivederci alla tua vita da clandestina no ma si può fare un convegno un convegno sarebbe molto molto indicato io sono sono pronto già da adesso l'istruttore è gratuito la passione la passione esce fuori ho una possibilità con l'amministrazione è abbastanza facile quindi quindi qua è ambita come cittadina quindi penso che per maggio giugno ma guarda che poi c'è tutta la parte adesso tu sei rimasta magari colpita da queste cose ma c'è tutta la parte poi archeologica e sentieristica che è un altro meraviglia sono molto lungimirante sono molto lungimirante non mi interessa quello che tu dici adesso io vedo quello che ci sarà dopo va beh incrociamo le dita incrociamo le dita arrivederci buona serata a tutti grazie grazie buonasera a tutti buonasera a tutti grazie grazie